Musica Ancora all'interno dell'Istituto Idrografico della Marina a Genova, alla scoperta dei documenti nautici, siamo in compagnia del Comandante Andrea Ferrarini. Buongiorno Comandante e grazie per l'ospitalità. Dove ci troviamo? Allora ci troviamo all'ufficio documenti nautici e in questo ufficio ci occupiamo della produzione di pubblicazioni nautiche e dell'aggiornamento delle stesse pubblicazioni e delle carte nautiche. Strumenti con i quali bisogna per forza avere a che fare quando si naviga? Sì, se si vuole navigare in sicurezza è necessario utilizzare oltre alla carta nautica che è conosciutissima anche tutta una serie di pubblicazioni che vengono prodotte ed edite dall'Istituto. Le più importanti e le più conosciute sono i portolani che sono otto e dividono l'Italia in otto parti e l'elenco fare fanali, la raccolta delle formazioni nautiche nella quale vengono elencati tutti gli avvisi temporanei e per l'aggiornamento della documentazione nautica, perché bisogna sempre navigare con una documentazione nautica aggiornata per navigare in sicurezza, produciamo il fascicolo avvisi naviganti. Il famoso fascicolo avvisi naviganti. Che è un periodico quindicinale nel quale vengono riportati tutti gli avvisi che l'utente dovrà apportare sia sulle pubblicazioni che sulle carte nautiche. Per chi di nautica non se ne intende come me in questo caso, insomma, può stupire il fatto che abbiamo visto in questo ufficio comandante qualcuno lavorare proprio ancora a mano sulle carte per correggerle. È vero, è vero. Gli avvisi e gli aggiornamenti vengono ancora riportati sulle carte nautiche tradizionali con la penna rossa e questo viene fatto anche sulle pubblicazioni. Sulle pubblicazioni a volte vengono anche sostituite le pagine per rendere più facile quando ci sono degli aggiornamenti molto complessi. Quindi appunto un lavoro che viene fatto ancora a mano in qualche modo, cosa che stupisce in un'epoca in cui siamo abituati molto alla digitalizzazione, ma mi spiegava comandante che questo viene ancora fatto oggi sulla nave, no? Chi naviga si corregge la sua... Chi naviga, l'ufficiale di rotta e i suoi collaboratori prelevano la carta nautica dal famoso cassetto delle carte e utilizzando appunto il fascicolo avvisi naviganti correggono ancora a mano con tutte le difficoltà di movimento che ci sono. Tra l'altro perché qua siete comodi appoggiati sulla scrivania, invece a bordo si ha a che fare anche con l'andamento. E lo devono fare anche tempestivamente perché è impossibile, diciamo, navigare in sicurezza senza avere una carta nautica aggiornata all'ultimo fascicolo. Quindi grazie comandante, mi raccomando, gli avvisi ai naviganti, ora lo sapete, vengono da qua.